Si credo dovessi definire in un rigo il problema così come si è manifestato, chi vi parla è da sempre fortemente orientato a volere non la riforma in generale ma soprattutto questa riforma, cioè la riforma del Senato del titolo quinto. Ho compreso nella circostanza che se non ci si concepisce come il Dudu di Renzi difficilmente si può partecipare a questo lavoro. Grazie.